non vi lascerò orfani tornerò a voi giovanni 14 verso 18 e lì ci ha lasciati ma non siamo rimasti orfani cristo gesù e la nostra consolazione e se ne è andato ma non siamo sconsolati il nostro conforto risiede nel fatto che il signore ritornerà e questo ci sarà di sostegno durante la sua prolungata assenza gesù è già lungo la via e gli dice io vengo presto cristo avanza in fretta verso di noi e gli dice tornerò e nessuno può impedire la sua venuta o ritardarla di un solo quarto d'ora e gli afferma in particolare tornerò a voi e così farà la sua venuta riguarda specialmente il suo popolo questa deve essere la loro consolazione per il presente mentre sono in pena perché lo sposo non appare ancora quando perdiamo il senso beato della sua presenza siamo adolorati ma non angustiati come se non ci fosse più speranza per un momento il signore si è nascosto ma tornerà a noi con il suo sguardo benevolo e li ci lascia in un senso ma soltanto in un certo senso quando si ritrae ci lascia con la promessa che farà ritorno o signore vieni presto non c'è vita su questa terra senza di te agoniamo il ritorno del tuo dolce sorriso siamo certi che apparirai ma si veloce come un capriolo o un giovane cervo non tardare dio nostro